Signore e signori, ecco a voi, Arrapao, uno dei vertici più bassi dell'intera cinematografia mondiale. Un film scritto, diretto e prodotto da Ciro Ippolito nel 1984, che ha per protagonisti i membri del rock band Squallor, attiva tra gli anni 70 e l'inizio dei 90, e la bella Tinica Ansino. Il film racconta l'intrigo amoroso tra Shella Pezzata, figlia del grande capo indiano Palla Pesante della tribù dei Cefaloni, che è promessa sposa a cavallo pazzo, ma è segretamente innamorata del bel fusto Arrapao, il figlio del capo della tribù degli Arrapao, appunto. A far da catalizzatore, da terzo incomodo della vicenda, c'è la tribù dei Froceien, il cui nome è tutto un programma. Arrapao è un film davvero scioccante che colpisce per quanto riesce a essere approssimativo e becero nei toni, nei modi e nella scrittura, se si può parlare di scrittura con un titolo del genere. Entriamo un po' nel merito di Arrapao. Perché è così terribile questo film? Beh, innanzitutto, la storia in sé era buona per fare mezz'ora di girato, e quindi cos'hanno ben pensato? Beh, di inserire nove stralci, nove spezzoni, da scene che dovrebbero essere comiche, ma fanno piangere, a finte pubblicità, all'interno di del film, quindi nove intermezzi che hanno il solo scopo di allungare il film. E sul finale, invece, è stata inserita un'altra scena che non c'entra assolutamente nulla, che inquadrano l'ingresso dell'Aida all'Arena di Verona, nella quale è inserito anche Arrapao, così a caso, mentre tra il pubblico ci sono alcuni dei protagonisti. E anche questa scena di 7-8 minuti è stata aggiunta al solo scopo di raggiungere un minutaggio necessario a produrre un lungometraggio. E infatti quanto dura Arrapao? 76 minuti. Eccoci qui con la bella Tini Cansino, che viene torturata, e come noi poi, spettatori, siamo stati torturati da Arrapao, il film, perché, parliamoci chiaro, è una tortura sia per gli occhi, perché non c'è molto da vedere e da apprezzare visivamente in questo film, ma anche per le orecchie, per i dialoghi che ascoltiamo, che sono di un livello, di una bassesta, a volte ci sono delle volgarità totalmente gratuite che non strappano neanche il sorriso, quindi proprio buttate là così. E la stessa Tini Cansino ha poi rivelato che Daniele Pace, che interpreta Palla Pesante, ha improvvisato gran parte dei suoi dialoghi. Il peccato è che non è che è come, non so, quando De Niro improvvisava i dialoghi di Taxi Driver, vengono fuori delle frasi in cui sembra anche impappinarsi e non dicono assolutamente nulla e ci lasciano totalmente allibiti di fronte alle scene di una inutilità cosmica alle quali assistiamo. Bene, trattandosi di un film appunto con protagonista una rock band, seppur demenziale, uno dice magari le musiche sono interessanti, e in effetti l'area principale è abbastanza tono con il film, ma poi le musiche degli Squallor, le avete mai ascoltate? Cantano quasi tutte le canzoni in napoletano, infilando una sfilza di parolacce totalmente così, a caso. L'umorismo non è come quello degli Schiantos, che c'è una genialità dietro. Qui sembra veramente una spudoratezza all'estremo e basta. E per quanto riguarda il film, l'unica cosa interessante del film che mi fa dare quel mezzo voto in più è appunto l'introduzione recitata da Alfredo Cerruti, questa sorta di crooner che fa da narratore a tutto il film, e anche i titoli di coda, nei quali un minimo di sorriso riescono a strapparlo.